Nessuno sfratto, almeno per il momento. Nella giornata odierna, alle ore 10, era previsto lo sgombero dell'abitazione in via Persoria 53 della famiglia Moneti, che però non è andato in scena per l'assenza delle forze dell'ordine. Per fortuna stamattina è stato rinviato, perché non è intervenuta la forza pubblica e quindi si è stati con l'ansia fino adesso, perché comunque è così. Noi ci siamo già attivati per cercare questa abitazione, non è facile, perché dobbiamo trovare un'abitazione che sia giusta, come vi ho detto più volte, per Alessandro. Ci abbiamo dei contatti, speriamo in settimana di concludere qualcosa di buono, perché non vogliamo più ripassare per queste situazioni e soprattutto non vogliamo passare da quelli, come ci hanno additato, che vogliono approfittare di questa situazione. A solidarietà abbiamo aiuti, abbiamo delle persone anche che ci aiutano, ci hanno sempre sostenuto in questo ultimo periodo, anche perché noi non avevamo più le forze neanche per sostenere il percorso di Alessandro, perché in nove anni abbiamo finito tutto quello che avevamo. Però detto questo ho una famiglia che mi sta vicino, ho degli amici, delle persone anche che non conoscevamo, che ci siamo conosciuti in questo frangente, che mi stanno aiutando anche economicamente, quindi siamo fiduciosi di risollevarci. Adesso oggi portiamo a casa mia moglie che ha fatto l'intervento, che è da lei tutto bene. Persiste una chiara situazione di emergenza, soprattutto per la presenza del giovane Alessandro Moneti, un ragazzo disabile ormai da nove anni a causa di un tragico incidente stradale. No, più che trattare ci daranno anche un andalì, un altro termine ultimo, insomma, in base alle loro... Quindi la data non c'è ancora, la data. È provvisoria. La famiglia avrebbe dovuto liberare l'abitazione per via di un procedimento di esecuzione immobiliare, successivo alla confisca e vendita all'asta della casa, assegnata poi ad un nuovo proprietario. Questa mattina, dopo circa due ore di attesa, è arrivata la notizia. La famiglia Moneti avrà altre due settimane di tempo per cercare una nuova abitazione e farsi così trovare pronta ad abbandonare quella attuale. Comunque la famiglia Moneti si sta adeguando per reperire una nuova abitazione, una nuova collocazione abitativa, ovviamente nel rispetto di quelle che sono le loro esigenze oggettive e pratiche sostanzialmente. Prosegue in modo importante il supporto offerto da amici e col diretti nei confronti di Alessandro e della sua famiglia. A tal proposito, questa mattina era presente un trattore dinanzi al civico 53 di via Persoria. Un gesto simbolico, ovviamente, noi siamo stati a fianco ad Alessandro fin dall'inizio e alla famiglia, per cui questo trattore è un simbolo di vicinanza alla famiglia stessa, anche perché lui è un imprenditore agricolo. La sua attività da poco tempo, da circa un anno, è diventata quella dell'azienda agricola. È un nostro associato e noi come tale gli stiamo vicini e lo stiamo difendendo, ma quantomeno gli stiamo dando un appoggio soprattutto morale.